Nuovo capitolo nella lotta alle PM10. La regione toscana, come da più parti ha auspicato e anticipato, ha annunciato la pubblicazione di un bando da 800.000 euro rivolto ai cittadini della Piana Lucchese e della Valdinievole. Si tratta di contributi, il cui scopo è incentivare la sostituzione di vecchi generatori di calore, caminetti e stufe con quelli di ultima generazione meno inquinanti. Dell'importo messo a disposizione per l'annualità 2022 per i residenti nei 14 comuni, oggetto della sentenza della Corte di Giustizia Europea del novembre 2020, 500.000 euro sono per la sostituzione dei vecchi generatori di calore e 300.000 per l'acquisto di biotrituratori, macchinari che triturano gli scarti vegetali e legnosi trasformandoli in concime riutilizzabile. Dal 21 novembre, tramite la piattaforma di sviluppo toscana, i cittadini potranno chiedere il rimborso delle spese sostenute per la sostituzione o la riqualificazione di vecchi generatori di calori alimentati a diomasse, con classe emissiva a tre stelle o inferiore, inclusi i focolari aperti, con altri apparecchi meno inquinanti e di classe emissiva superiore o uguale a quattro stelle, oppure con apparecchi a metano ad alta prestazione energetica. Invece i proprietari di terreni ad uso agricolo, le aziende agricole e i coltivatori diretti potranno chiedere il rimborso per l'acquisto di un biotrituratore dal 2023. Al contrario di quanto chiesto e auspicato anche da alcuni amministratori, i rimborsi avranno un tetto massimo. Per la sostituzione o la riqualificazione dei generatori di calore il rimborso sarà fino a 3.000 euro, mentre per l'acquisto di biotrituratori sarà rimborsato fino al 60% della spesa o un tetto massimo di 2.000 euro ai privati e fino al 50% o un tetto massimo di 1.000 euro alle aziende agricole. Misure probabilmente queste ancora non sufficienti all'incentivazione di acquisto e sostituzione di nuovi generatori.